Allora, partiamo con l'estrazione. Vogliamo chiamare una signora? Margherita! Dai! Grazie. Dai, impediati. Ok? Allora, il numero è il numero, eh? Dovinate qual è? Nove. Vabbè, passiamoci, ne sono tre stasera, bellissimo. Andrò, signori! Allora, continuiamo con la seconda. Grazie. 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 Allora, il numero è il numero, eh? Vizzi. Grazie. 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 ultima estrazione 3 3 scusate chiamiamolo spedonistella chiamiamolo spedonistella chiamiamolo spedonistella chiamiamolo spedonistella prendi, prendi le amore la tua paglia è lì allora la tua paglia è lì quindi, sì bravo se balone se balone se balone se balone se balone sono però grazie a tutti grazie